Partiamo da uno dei titoli più attesi della settimana. Su Disney Plus arriva infatti il riadattamento seriale del cult di Ferza Nozpetech, Le Fate Ignoranti. La trama resta quella del film e cambiano però gli attori tra i protagonisti Luca Argentero e Cristiana Capotondi. Il romantic drama avrà inoltre una sigla originale d'eccezione, Buttare l'amore, interpretata da Mina. Ma voi siete degli ignoranti, degli invadenti, dei superficiali! Voi entrate nella vita delle persone, le travolgete senza chiedere il permesso! Ci spostiamo su Sky serie per Ordinary Joe. La vita è fatta di scelte e a volte un singolo istante può cambiare ogni cosa, esattamente come capita a Joe, la cui esistenza prende una piega decisamente inaspettata in occasione della cerimonia di Lauria. Da lì in poi partono tre storie parallele. Ora su Apple TV Plus per Roar. La serie con Nicole Kidman, ritratto perspicace, toccante e talvolta esilarante di cosa significa essere una donna oggi. Non so davvero come facciate voi donne. Stregoneria per lo più. Torniamo su Disney Plus per il debutto della serie reality The Kardashians. Dopo aver detto addio alla franchise di Al Passo con le Kardashian, trasmesso dal 2007 al 2021, la famiglia Kardashian porterà ora un nuovo emozionante capitolo grazie a un viaggio inedito e intimo nelle vite di Chris, Kourtney, Kim, Chloe, Kendall e Kylie. Discoraggio Partito del film Partito del film Partito del film Partito del film